Intanto registriamo con piacere che quanto noi abbiamo iniziato a fare nel 2012, ovvero indicare la realizzazione dei nuovi presidi ospedali di Lanciano, Vasto, Avezzano, le ristrutturazioni di Sulmona e di Popoli, il nuovo 118 dell'Aquila e la realizzazione ospedale di Giulianova, questo lavoro durato tre anni, oggi trova una conferma perché il Ministero ha risposto positivamente alla programmazione fatta allora dalla giunta di centrodestra e si è detto disponibile la stanza del 40% delle somme per realizzare questi nuovi ospedali. Cosa cambia rispetto a noi? Noi dicevamo a un privato, guarda, realizzaci il nuovo ospedale in questo modo moderno, questa è la parte di finanziamento pubblica, prenditi gli immobili vecchi e costruisci tu un progetto su quegli immobili vecchi. La nuova giunta, quella d'Alfonso, dice ecco ti soldi pubblici, gli immobili vecchi ci restano a noi sul groppone, quindi nelle varie città, Lanciano, Avezzano, Vasto e Giulianova e io quello che ti manca te lo darò per il tramite, o ti faccio gestire i servizi ospedalieri o ti pago un canone. Insomma, beata a chi lo vince questa gara perché prenderà soldi pubblici da una parte e soldi pubblici dall'altra, forse guadagneremo qualche mese in più nelle realizzazioni ma certamente faremo spendere molto ai cittadini abruzzesi per realizzare questi ospedali o meglio non potremo avere manovre riduttive della pressione fiscale.